oggi è una giornata importante è una giornata importante perché per la prima volta nella lunga storia della lega appare a tutti noi nel cuore l'abbiamo sempre saputo voi l'avete sempre saputo ma gli altri no invece per la prima volta oggi tutti sanno che noi siamo qua per vincere anche dove era impossibile invece no perché basta dire la verità e la gente ormai ha capito dove sono le menzogne e dov'è la verità io vi devo solo ringraziare come devo ringraziare Matteo Salvini perché io sono solo un piccolo insegnante e mi avete dato la classe più bella del mondo per spiegare le cose mi avete dato la classe più bella del mondo e io sono felice io ogni giorno della mia vita è più felice adesso perché posso veramente dire la mia e posso spiegare cose che sono banali ma che questi criminali ci avevano fatto dimenticare con le loro menzogne la prima cosa la prima cosa da imparare quando si parla di padroni a casa nostra che non si è padroni di un cazzo senza la moneta quella deve essere nostra non si è padroni di un cazzo senza i confini nessun paese lascia aperti i confini sono cose che hanno conquistato i nostri padri i nostri nonni quelli che erano qua mille anni fa a giurare e noi lasciamo i confini aperti prego entrate ma scherziamo non si va da nessuna parte se non c'è il lavoro e un sistema come l'attuale crea disoccupazione e io mentre giravo in toscana trovavo la disoccupazione incarnata in una persona un operaio della fabbrica smith di volterra con una bambina in mano una piccola bambina col ciuccio 11 mesi e lui con questa faccia anche lui da bambino mi guardava e mi diceva ci hanno detto tutti a casa 200 che siamo in fabbrica questa multinazionale ci hanno detto tutti a casa e ora io cosa faccio ho il mutuo e ho questa bambina in mano ecco che cos'è la crisi ed ecco perché io darò ogni attimo della mia vita per liberarci da questa crisi che non capita dal cielo capita perché ce l'hanno imposta io 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 nelle vostre facce nelle vostre facce oggi vedo vedo le facce dei miei nati io vedo vedo le facce di quello che molto indegnamente incredibilmente indegnamente che solo il pensiero mi fa tremare le mani di essere qui al posto di chi è cento volte più grande di me e a cui vorrei che tutti facessimo un applauso per ricordarlo gianfranco miglio non son degno ma una cosa nelle vostre facce che per me sono tutte le facce del mio bisnonno del mio trisnonno che erano del lago di como che si guadagnavano picchiando la pietra il lavoro e il loro pane che poi mangiavano perché avevano le cave loro mi direbbero una sola cosa così come me l'ha detta mio figlio che adesso è lì per la prima volta pontida sul prato loro mi avrebbero detto Claudio il destino ti ha detto ti ha dato il compito di stare vicino ad aiutare Matteo Salvini prendi questo piccone stai vicino a lui e picca grazie grazie io sarò sempre con voi grazie